Grazie padre Matteo, buongiorno a tutti. Oggi sono qua più che in veste di amico della comunità come responsabile del dialogo interreligioso del Parlamento europeo. Io chiederei subito a Don Ambrogio che è, diciamo così, il padre e figlio spirituale della comunità di Sant'Egido che è protagonista proprio del dialogo interreligioso. Quanto conta l'educazione? Secondo me tanto, ma quanto si può fare ancora di più non soltanto nell'educazione dei bambini ma anche nella formazione in comunità come questa? Sono sempre rimasto molto colpito positivamente dal vostro vivere insieme perché io credo che noi siamo in un mondo che ci vorrebbe costringere a essere individualisti perché questa è la grande tentazione di oggi. Ognuno pensi a se stesso. Nessuno di noi si è dato la vita. Nessuno. Per quanto può essere picco della mirandola, il più grande del mondo, anche il più grande del mondo ha ricevuto la vita come un dono. Ora io dico questo, amici miei, ma nella vita non bisognerebbe anche restituire un po' questo dono? Non bisognerebbe che ognuno di noi imparasse a capire che siccome ha ricevuto la cosa fondamentale da un atto di amore non si dovrebbe restituire questo? E come si restituisce? Si restituisce donando amore. E l'amore è fatica, non è sentimento. È costruzione, è fatica. Il dialogo, ed è bello che la vostra comunità ha in dialogo, perché il dialogo è l'essenza della possibilità di costruire l'amore. Perché se non ci si ascolta, ma come si fa a vivere? L'individualismo è il rifiuto di ascoltare gli altri, capite? Non si può vivere senza e non si può vivere contro gli altri. La differenza è una ricchezza, non deve essere usata per colpire gli altri, per separarsi dagli altri. Questa è la forza del dialogo. Cioè riconoscere che nella nostra diversità ognuno di noi, anche se ha una storia difficile, ha un valore, ha un valore. E io credo che qui voi riscoprite all'interno magari di una vita faticosa che ognuno ha un valore, ha una ricchezza. E ricordiamoci sempre che siamo tutti fatti, come dice la Bibbia, a immagine e somiglianza di Dio. Quindi, negli altri, noi dobbiamo sempre cercare questa immagine che tante volte è stata offuscata dal male, da tante cose che l'hanno un po' offuscata. Ma c'è sempre l'immagine di Dio. E allora facciamola venire fuori. Scopriamola negli altri e aiutiamoci a viverla insieme. Come fa Dio a creare il mondo, a creare noi, se Lui è tutto? Come fa? Lui è tutto. Come facciamo a esistere noi, se Lui è tutto? Bene, la tradizione ebraica, una certa tradizione ebraica dice che Dio per crearci ha dovuto restringersi. Restringersi per fare spazio a noi. Questo è l'amore. Ognuno di noi si deve un po' restringere. Non può pensare di possedere gli altri. Altrimenti non ama. Non solo l'apprezzamento, ma anche la simpatia che ho per quello che qui voi fate insieme a Padre Matteo. Credo che sia una cosa molto bella e di grande valore per il nostro mondo. Perché voi mostrate come nella fatica della vita si può costruire un'alternativa. e di grande valore per il nostro mondo.